E' qui con noi al Safety Day 2019 di Contec, Andrea Di Benedetto di Treme Italia, al quale chiediamo un commento generale sui workshop ai quali ha partecipato oggi a Padova. Buongiorno, devo dire workshop molto interessanti, sia per la parte diciamo prettamente tecnica sulla gestione degli appalti che era il nostro particolare interesse, visto comunque la grande difficoltà per le aziende di gestire gli appalti di primo livello, secondo livello. Ma infatti è emerso anche durante i lavori questo tema caldo. Esatto, ma anche poi altri temi come quello della viabilità interna che è stata molto interessante. Si dà sempre poco affidamento alle tecniche di gestione della viabilità, tutto rimandato alla cartellonistica, ma con pochi risultati, spesso e volentieri, e poca convinzione. Invece insomma ci hanno fatto vedere quanto alla fine ci sia anche dietro una ingegnerizzazione vera e propria dei concetti di viabilità, effettivamente molto molto interessante. E' stata una bella giornata, devo dire, di sorpresa, visto che non vi conoscevamo, quindi grazie a voi.